La protezione civile della campagna ha emanato una nuova allerta gialla che proroga ed estende quella attualmente in vigore sui settori centro-meridionali della regione. A partire dalle 23.59 fino alle 14 di domani, domenica 6 novembre, si prevedono infatti ancora possibili rovesci o isolati temporali. E intanto si contano i danni. Ciro Buonaiuto, vicepresidente nazionale Anci e sindaco di Ercolano, dove ha ceduto parte dello stadio, lancia un grido d'allarme. I comuni lasciati soli di fronte alle emergenze. Alle amministrazioni comunali mancano le risorse per garantire sicurezza e ora mancheranno i finanziamenti per sistemare i disastri provocati dal maltempo, scrive Buonaiuto sulla sua pagina Facebook. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta ad Ercolano. Flagellata anche l'Irpinia, i comuni più colpiti Montella e Lioni, dove è esondato il fiume Ofanto, inondati ettari ed ettari di campi coltivati. Già stiamo iniziando a fare una stima dei danni. Naturalmente faremo presente anche al Genio Civile, che è competente in materia, le criticità che ci sono. Anche sotto questo aspetto abbiamo anche noi progettato un allargamento delle sponde del fiume. Manderemo nei prossimi giorni il progetto al Genio Civile, sperando che ci sia una fonte di finanziamento per questo intervento. Il problema maggiore che ha creato veramente dei disservizi è stato il fatto che l'evento si è concentrato in un tempo brevissimo, quindi in meno di 20 minuti il livello del fiume ha raggiunto un limite tale andando a inondare i terreni vicini, quindi strade e ponti.